buongiorno eccoci qui siamo ritornati ciao buon pomeriggio a tutti e benvenuti di nuovo sul canale di fiorista bandiamo con un piccolo classico bouquet che dobbiamo consegnare questa sera siamo ripartiti col botto è adesso vi facciamo vedere un po le nostre vetrine intanto che barbara prepara i fiori in vetrina abbiamo l'arabica stupende le piante del caffè e la pianta del ginseng abbiamo la miseria abbiamo anche miseria è vero è molto bella questa è molto molto bella guardate che bella che è abbiamo le piante del ginseng guardate che belle abbiamo le piante del caffè con dei bellissimi vasi guardate anche dei caffè inato abbiamo i marimo in questo nuovo formato sì e abbiamo anche ovviamente le nostre flower box con le rose stabilizzate bellissime e le flower cube ok adesso vi faccio vedere di là a seguiteci perché a breve ci stai benissimo dice stefania bruna ciao buongiorno ciao bruna siete mancati bentornati grazie novità di novità delle flower coop abbiamo visto delle cose molto molto belle arriveranno che piaceranno molto alle nostre signore che ci seguono ma prossimamente sì solo chi avrà il piacere di seguirci il nostro fior d'acqua è tornato operativo con tutti i nostri fiori andando avanti ho creato la mia base di verdi aspetta fermati un attimo così dopo facciamo vedere allora rose astromerie lisianthus rose bianche gerbere garofani un pochino tutto e di qui anche qui la nostra vetrina con orchidee anturium mini gerbere cesti di ogni tipo foglie di begonia begonie sì guardate che belle le prime eriche multicolore guardate che belle anche le gloxigne le gloxigne che mancavano dal mercato sono bellissime le begonie le begonie a varietà bellissime un po tutto insomma sì allora torniamo da barbara torniamo da barbara i nostri quadri vegetali che vi abbiamo già fatto vedere guardate che belli e torniamo qua via parti ah bene posso partire puoi partire oh questo non va bene eccoci qui dopo la pausa estiva riposati rintemprati ri 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 tutti ri 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 e anche felici di essere tornati al nostro negozio eh al nostro lavoro sì esatto abbiamo aperto sembrava abbandonato a se stesso era spoglio e così però in due giorni l'abbiamo riportato agli antichi splendori ancora qualche ragnatela qua e là però allora quello che si impara che si fa da una vita non si perde quindi la manualità è rimasta malgrado questi 20 giorni di pausa bucchè misto colorato lo andiamo a incartare vengono tra poco a ritirarlo quindi lo possiamo anche incartare perfetto ricordiamo poi che siamo presenti sui tutti maggiori social network eh quindi youtube instagram tiktok e qui ovviamente su facebook diciamo che se non ci trovate live di qua se girate un po nel web ci trovate da qualche altra parte e poi che facciamo consegna a domicilio eh facciamo consegna a domicilio lo ripetiamo spesso perché tanti ce lo chiedono e quindi esatto facciamo consegna a domicilio in gallarate e comuni limitrofi diciamo che arriviamo fino a una decina di chilometri sì nel nostro circondario 10-15 chilometri a breve inizieremo a ottobre inizieremo anche i nuovi workshop quindi chi vuole iscriversi a ottobre facciamo il nido di muschio autunnale un lavoro molto molto bello molto molto carino e quindi se volete essere dei nostri il primo venerdì di tutti i mesi vi faremo entrare nel mondo magico dei nostri splendidi fiori vi facciamo esplorare il nostro lavoro facciamo sporcare le mani però sempre con cose molto molto belle brava e particolari allora un piccolo bouquet i colori me li ha scelti la signora in origine erano altre tipologie di fiori la foto che mi ha fatto vedere ma ahimè sono molto fiori molto stagionali e in questo momento non erano disponibili allora chi ci sta guardando scriveteci da dove ci state guardando così almeno vediamo un po' oltre a Stefania e Bruna allora tagliamo noi siamo a Gallarate in provincia di Varese eh? sì vado a prendere il forbice tu stai qui tranquillo certo intanto facciamo vedere il bouquet e facciamo vedere quella bellissima orchidea guardate che bella sì certo Stefania ci ricordiamo di vite allora in carto allora carta romboidale bella guardate come come si apre questa carta è una carta tutta plissettata molto 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 bella l'abbiamo già fatta vedere altre volte sì l'abbiamo già fatta vedere altre volte e carta da pacco ci sono in diversi colori l'hanno voluto molto colorato c'erano le zinnie ecco che mi è venuto in mente ovviamente in questo periodo le zinnie e le zinnie e poi c'era dentro anche della camomilla che in questo periodo non c'è sì ma oggi non ce l'abbiamo no bucherino veloce veloce bello bello non hai perso la manualità eh no no è come andare in bicicletta è come andare in bicicletta quando si impara non si dimentica più eh no credo di no perfetto bel fiocco ho scelto questo qui una tonalità salmone bello e adesso lo prepariamo per il ritiro eccoci qua benissimo bene allora se vi piacciono i nostri omaggi florali scriveteci i vostri commenti vi aspettiamo al prossimo live sì e torneremo adesso penso ogni pomeriggio giusto? sì vi auguriamo una buona serata buona serata Stefania dice bellissimo grazie Stefania ci vediamo domani ciao a tutti ciao 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 ciao